Eccoci qui, allora siamo pronti a parlare di Inter, andiamo sì a parlare di questa situazione dei nerazzurri che troneggiano, caro Michele, troneggi, fammi vedere come troneggi dall'alto della primata in classifica. Io sono completamente in sintonia con il mister e quindi zitti, testa bassa e pedalare. Doppio cambio nella Lazio, non che ci volesse un indovino, ma insomma, Correa e Milinkovic dentro entrambi, fuori Lucas Leiva e Caicedo. Era pronosticato, quando prevedi le variazioni tattiche sei molto più affidabile quando commenti rigore. Allora andiamo a sentire Conte. Federico, la storia deve insegnare qualcosa, è 2015-2017, c'è ripeto, l'Inter ha già iniziato così due volte negli ultimi 4-5 anni. L'arrivo, ormai l'imminenza delle coppe europee gioca brutti scherzi, forse agli allenatori, nel senso che anche un eccesso di turnover, come penso possa essere considerato quello della Lazio, poi ti mette nelle condizioni comunque di dover rischiare per forza. Allora, questo riferito chiaramente a quello che sta succedendo in campo, però adesso andiamo ad ascoltare Conte. Conte che parla delle partite dell'Inter, il tecnico Nerazzurro, uno dei primi passaggi che andremo ad ascoltare insieme proprio relativamente all'Inter e poi ci chiederemo dove può arrivare, dove può arrivare quest'Inter, benché Michele voglia essere più o meno prudente. Conte, abbiamo vinto tre partite, penso militandola, anche perché però al tempo stesso se qualcuno pensa che ti fai delle passeggiate sarà molto difficile per noi fare delle passeggiate. Noi dovremmo sempre scendere in campo con unghie e denti affilati, dobbiamo essere contenti se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, se vogliamo vedere mezzo vuoto potremmo fare meno fatica a vincere queste tre partite. Se abbiamo propositi di grandezza come leggo, perché la gente pensa che dall'oggi al domani tu prendi e diventi vincente. C'è una strada da percorrere, c'è una strada da fare, i ragazzi hanno voglia di lavorare, hanno voglia di percorrere questa strada, vedremo quanto saremo bravi a percorrere, di sicuro daremo il 120%, ecco questo è fuori dubbio. 120% e tirare fuori le unghie e i denti, colorite, un po' da Terminator, però fa bene. Leggo troppe fesserie, ha detto anche Furio. Dopo abbiamo un altro passaggio in cui parla dei tranelli tesi dai giornalisti, dei tranelli tesi anche magari dalla comunicazione. Dopo però, prima parliamo un attimo di queste prime spie, affrontate dall'Inter. Michele, che mi dici? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, tu come lo vedi? No, ma mezzo pieno, vedo di più l'altro, ovviamente se vinci tre partite prevale il discorso perché poi il risultato viene prima, anche se Conte dice giustamente non bisogna essere, qui ha usato queste due metafore, non bisogna essere scintilla ma dinamite e non bisogna adesso nel turnover, perché ci sono sette partite in venti giorni, quindi hai dei punti interrogativi, trasformare il punto interrogativo in un punto esclamativo. Cioè l'Inter è vero che oggi è potenzialmente una squadra che può ancora crescere, è quella che ha più margini, come ha detto Conte, si sottolinea poco che l'Inter ha cambiato praticamente mezza squadra, più l'allenatore, il modo di giocare. Cosa ti è piaciuto particolarmente però? La cosa che già è così avanti dal punto di vista dell'identità, c'è aggredire altro l'avversario, avere una squadra che comunque anche se ha magari dei limiti però giocano da squadra, dal punto di vista anche della personalità. Ieri per esempio per la prima volta ha giocato dal primo minuto Godin, che è un giocatore che tappa insieme magari anche a Lukaku, ieri meno aveva un problemino fisico, quella carenza di leadership di giocatori anche di spessore internazionale, che in questi anni all'Inter quando le cose non funzionavano per il meglio si sentiva perché c'era questa tendenza a deprimersi nella negatività. Invece un giocatore per esempio a Cagliari, mi ha sorpreso molto l'Inter dopo l'1-1, ha fatto brutti dieci minuti all'inizio del secondo tempo, si sono rimessi lì, hanno ricominciato a giocare, hanno creato senza andare freneticamente. Con pazienza. Con pazienza. L'Inter spesso quando andavano male le cose, ognuno poi voleva risolvere le differenze. Invece Lukaku ha detto in settimana, il nostro leader è chiaro e definito, cioè è Conte, è l'allenatore. Hai detto poco, hai detto poco, visto quello che si diceva dell'Inter in questi ultimi anni. Ed essere un blocco monolitico non è una cosa così scontata, soprattutto se parliamo anche di... Franco da te che conosci Conte da molto vicino. No, è un percorso di crescita. Antonio Conte quando arriva in una nuova squadra riesce sempre a creare la scintilla. A mettere ordine. A mettere ordine, a sistemare delle cose. Però lo ha detto anche lui chiaramente ieri sera, con una faccia anche un po' truce. Secondo me non era felicissimo di come l'Inter ha vinto contro l'Udinese, ricordiamo in superiorità numerica per oltre un tempo. Avrebbe voluto che l'Inter chiudesse la partita. Però un processo di crescita, ecco perché lui in questo momento getta acqua sul fuoco dicendo leggo delle cose pazzesche, calma e gesso. Lui è sempre stato così. Antonio Conte si infiamma, secondo me, nella seconda parte del campionato. Cioè se l'Inter a gennaio-febbraio sarà nella posizione in cui è adesso e allora poi Conte mette il turbo a livello di ulteriore motivazione dei giocatori. Io ricordo, e sarò brevissimo... 3-1 del Cagliari a Parma, ragazzi. 3-1 del Cagliari a Parma segna il ciolito Simeone. A 76esimo minuto chiude forse una partita che ha sempre visto il Cagliari protagonista più del Parma. Anche se Gervinio ha avuto due occasioni per pareggiare sull'uno a due. E allora questo è il risultato che cambia ancora e... Io volevo fare uno... Arrivo, arrivo Furio. Questo qua è il risultato e questa appunto è la classifica che non viene modificata ma è comunque... si è già modificata in questo senso. Furio... Io volevo sottolineare come Conte, uno dei pregi di Conte, nei confronti comunque di due grandissimi allenatori di questo decennio dell'Inter, vale a dire Mancini e Murigno, lui si identifica nell'Inter, non costruisce un'altra Inter, mi spiego meglio. Mancini aveva, anche Murigno, volevano essere l'Inter. Innanzitutto la loro base operativa non era la sede della società ma era a piano gentile, tu lo sai benissimo, è vero. Avevano creato proprio una città-stato all'interno dello Stato e poi anche secondo me con un'esuberanza non richiesta le sciarpe di Mancini, anche questo interismo esasperato, l'uno contro tutti di Murigno, certo hanno procurato dei risultati concreti, però poi alla fine era quasi più, volevano più forse sottolineare la loro assenza che non la loro presenza, perché quando poi è andato via Mancini, quando poi è andato via soprattutto Murigno, si è caduto in una situazione quasi di depressione. Però le caratteristiche umane, oltre che... ma gli allenatori non si discutono, le caratteristiche umane erano differenti. Conte aveva il sangue bianconero, però, e probabilmente ce l'ho ancora, però non l'ha mai manifestato fuori. Qui all'Inter, lui è l'Inter e ormai, dopo pochissimi mesi, penso che questo sia un record assoluto, è diventato parte integrante dell'Inter, non è che ha costruito un'altra Inter. Vi ricordate come a un certo punto ci fossero state delle discrepanze anche fra la sede? Non so, adesso non mi ricordo che ne ha cambiato un bel po'. Orsolini, Brescia 3, Bologna 4, rimonta completata, segna anche il numero 7 del Bologna, l'ottantesimo minuto di gioco, Brescia ormai in 10, praticamente da inizio ripresa, non credo avrà le forze di recuperare, è un'ammazzata anche a livello psicologico. Riccardo Orsolini, segna Sonono, gol in Serie A, Brescia 3, Bologna 4, davvero una partita rocambolesca. Rocambolesca a dire poco, questo ribaltone allora del Bologna con la classifica che si riorganizza, come vedete, però si diceva che Furio diceva giustamente, il Conte è già riuscito a identificarsi, identificare se stesso con quest'Inter. Ma perché questa nuova Inter nasce con Marotta che arriva a dicembre, ma lui dice che quello non era nemmeno il primo anno, e adesso è il vero primo anno perché è arrivato durante l'anno, e sceglie l'allenatore, negli ultimi anni è la prima volta che all'Inter c'è la proprietà che coincide con il Presidente, che coincide con la persona che ha scelto l'amministratore delegato a Ria Sport, che ha scelto l'allenatore, che ha contribuito a creare la squadra. Cioè è una cosa che dovrebbe... La partita è il Paolo, scusate, Bruno Alves, cross dalla tre quarti lato destro su punizione, Bruno Alves sul lato opposto di testa va a incrociare, Parma 2, Cagliari 3 e 70 noesi. Non si smettiscono questi secondi tempi di queste partite che già nel primo tempo avevano regalato tanti gol, Paolo, anche nel secondo tempo ne stiamo vedendo... Lo stanno riguardando. Stanno riguardando perché c'è una possibilità di fuori gioco. C'è una possibilità ma per ora... Ma non mi sembrava così... Il gol fuori gioco. Fuori gioco. Vediamo Paolo. Ti dico quando riparte l'azione perché lo stanno riguardando, ti confermo che lo stanno riguardando. Lo stanno riguardando. Allora, tra un attimo diamo conferma oppure no, però... Sì, dicevo che negli ultimi anni non è mai successo. C'è stata la prima volta questa condivisione di obiettivi, c'è questa condivisione di intenti... Sì, ma anche il fatto che erano cambiate società, dirigenti, allenatori, non c'era mai stata una fine a questa girandola, no? Invece in questo momento con la scelta di Marotta come amministratore delegato, con una certa storia, quindi esperienza, ha voluto... E anche il distacco col passato è stato fatto proprio per cercare di partire con un gruppo che non potesse avere poi delle eccezioni, no? E no, però lui c'era prima, ha creato all'interno... E sono state fatte delle scelte anche dolorose, dei tagli netti, abbiamo detto più volte, fuori dal progetto A, B, C e fino alla fine... Più chiaro di così, più chiaro di così, no? È stata scongiurata metà della campagna di questi dell'anno passato. Gol tolto fuori gioco ufficiale in questo momento. Era fuori gioco. Forma 1 Cagliari 3. E allora, così sì, eccolo qua, il risultato che... Con il gol che viene tolto, dicevo però, dicevamo, che ci sono state delle scelte anche dure da parte di Conte nel precampionato. Mi devo fermare, mi devo fermare con la bucita, tra un attimo ascoltiamo ancora Conte che parla però di un tranello in cui si può cadere nell'eccedere forse di entusiasmo. A meno lui lo chiama così, lo chiama così. Un giochino in realtà dice che tutto il sistema della comunicazione può voler giocare appunto nei confronti dell'Inter. Ne discutiamo tra due minuti esatti dopo la pubblicità. State con noi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 E' importante trovare l'antagonista della Juve, soprattutto che sia l'Inter. Questo è il giochino, ma è giusto che ci sia questo giochino, al tempo stesso, ripeto, noi dobbiamo lavorare, non dobbiamo farci ascoltare queste sirene ammalianti, perché dobbiamo mantenere i piedi per terra e dobbiamo lavorare come stiamo facendo e dare il 200% come abbiamo fatto oggi. Noi dobbiamo avere nella nostra testa la voglia comunque di rompere le scatole a tutti, questo deve essere un fattore determinante. Noi possiamo rompere le scatole a tutti se continuiamo a lavorare come stiamo facendo, se abbiamo voglia di continuare a crescere e di non, come ho detto, testa bassa e pedalare, non farci ammaliare, non fare dichiarazioni stupide, che parlino gli altri. Ecco, noi dobbiamo stare zitti, dobbiamo fare il nostro dovere, cosa che noi stiamo facendo. E allora queste le parole di Conte, le commentiamo subito. Paolo, prima. Si sta guardando con il VAR, chiaramente, se verrà confermato o meno un rigore per il Parma. Colpo di testa di Cornelius, palla che sbatte, non si capisce bene dall'inquadratura sul petto o sul braccio di Clavan, il difensore estone del Cagliari. Quindi sta aspettando l'arbitro che il VAR gli confermi o meno la sua decisione. Sarebbe un calcio di rigore all'ottantasettesimo minuto sul risultato di 1-3 per il Cagliari a Parma. E allora aspettiamo la notizia, però voglio capire chi è che alza... Conte si rivolgeva a Furio Fedele. Ecco, voglio capire con lui. Con chi ce l'aveva? Chi è che alza per poi schiacciare Giulia? No, ma del resto mi sembra un giochino ben pagato, a un milione al mese si può fare questo che la cosa dice. Si può resistere anche, infatti ha detto Furio è giusto, a un certo punto si è resocchio. Ci mancherebbe anche che dissesse che non è giusto. La Juventus, che è il monopolio da anni, finalmente può avere un antagonista che non è una qualsiasi, ma è la rivale storica. Ma mica l'hanno preso per arrivare in Europa League. E poi, scusami, mi porto avanti approfittando dell'amicizia e della stima, che non è reciproca, ma solo da parte mia nei vostri confronti, per suggerire il titolo proprio di un'altra trasmissione, ovviamente marchiata diretta a mercato per la prossima settimana. Che potrebbe essere? Palla lunga, pedalare, no, testa alta e giocare a calcio. Conte e Giampaolo. Bisogna aspettare il risultato di questa sera e poi, secondo me, poi dopo io e il mio amico Paolo Marcello potremmo essere magari parte integrante di questa... Ma Paolo Marcello, con un titolo così breve e sintetico, la vedo bene la trasmissione. Non l'ho sentito, giuro. No, 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 Paolo dopo avrà da fare in regia, ahi noi. Però, però, dicevamo, allora, qual è questo... Allora, questo giochino che dice Conte va bene dal suo punto di vista. No, ma è un gioco al massacro, è un gioco al massacro che ha disintegrato Spalletti due dopo due... Infatti, lui, ecco, questa è l'unica cosa in comune tra Conte e Spalletti. Anche Spalletti diceva sempre il fenomeno e il fallito. Voi siete gli esperti, io non ci sto a questo giorno. Però, pensiamo a una cosa. Innanzitutto, breve inciso, la stima è reciproca con Fuglio. Ma questo ha tutta la vita, tutta la vita, assolutamente. No, Conte sa benissimo di essere arrivato in un club, in una piazza complicata, che non vince da tanto tempo e che ha una storia come quella dell'Inter. Non paragonabile a Napoli e a Roma, a Franco, che negli ultimi anni sono stati gli antagonisti. Però il gioco delle parti, lui ha talmente tanta esperienza e sa andare a toccare le corde dei suoi ragazzi. Ma se volete anche della stampa di noi giornalisti. Io ricordo delle conferenze stampa di Antonio Conte a Torino, a Vinovo, furiose. Ci furono anche delle situazioni particolari. Quindi, il gioco delle parti, lui sa benissimo che l'Inter, per tentare di vincere, arrivare lassù, deve seguirlo. Poi ci sarà qualcuno che magari si monterà la testa, l'allenatore sarà bravo a smontarlo. Concludo dicendo che io ricordo benissimo una mega strigliata fatta a Vinovo, lontano dalle telecamere, ma qualche collega era riuscito a captare. Il famoso anno, il primo anno di Conte, quando riesce a vincere lo Scudetto con un Milan strafavorito, dove lui va faccia a faccia, in maniera brutale, con i suoi. Ma quello è il modo di caricare e i risultati di Antonio Conte lo testimoniano. Poi danno ragione. Ma se noi parliamo... Allora, chi è che è convinto o pensa che l'Inter possa vincere? Andiamo al sodo della questione. Federico, i giocatori dell'Inter. Sì, un attimo. Fabio, se noi parliamo qualcuno può dire che l'Inter possa vincere lo Scudetto. Ci prestiamo a un giochino... Niente rigore per il Parma, eh? Niente rigore per il Parma, perché aspettavamo anche questa notizia. Secondo te l'Inter può vincere lo Scudetto? Vale la stessa valutazione fatta pochi minuti fa per il Napoli. Se la Juventus non riesce a limare le sue quattro dozzine di piccole asperità, allora l'Inter, assieme al Napoli, quest'anno è una contendente. Ma partiamo da una Juventus che è ancora nettamente più forte delle altre due. Questo non vuol dire, però, che se Conte non vince è un fallimento. L'Inter degli anni scorsi non aveva nessuna possibilità di lottare per lo Scudetto. L'Inter di quest'anno sta diventando una squadra che in prospettiva può lottare per lo Scudetto, perché la Juventus dovrà cambiare, finirà il ciclo... Sei molto cauto, Fabio. No, ci dovrà mettere... Questo potrebbe essere il primo anno in cui gioca per l'alta classifica vera, poi magari l'anno prossimo potrà giocare per lo Scudetto. Io faccio una valutazione molto semplice, brevissima, proprio numerica. L'Inter sulla carta, con gli 11 giocatori che mette in campo, è sicuramente una squadra forte. Non ha una profondità minimamente paragonabile a quella della Juventus per una stagione di 38 partite. Se guardiamo sulla carta, hai giochi a tre in difese, hai Skriniar, De Vrijdovin. Perfetto. Se uno dei tre ha il mal di pancia, il quarto... Le prime due giornate l'avevano due su tre mal di pancia. Il quarto, però hai giocato con Lecce. Il quarto, con tutto il rispetto, è Ranocchia. In attacco hai Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez. Il quarto, con tutto il rispetto, è Esposito. Alla Juventus, ma non è una punta vera, alla Juventus in attacco hai Cristiano Ronaldo, Higuaín, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi. La differenza è tutta qua. Però Federico... Curiosità, Parma, 12 minuti di recupero. Non so se l'avevate mai visto. No, 12 minuti di recupero. È un regolo 10. Però Federico, la tua domanda risponde una sorpresa. I giocatori dell'Inter, quando sono andati con le nazionali in queste due settimane, hanno parlato tutti di Scudetto, di vincere. Sanchez ha detto io, sono andato a Milano così per fare un anno. Allora il giochino lo fanno anche i giocatori dell'Inter. Lo fanno anche i giochieri dell'Inter. Ma Conte stesso è quello che forse... Ecco perché Conte ieri sera aveva quella faccia. No, perché lui è uno che getta acqua sul fuoco, ma giustamente. No, è vero che getta acqua, però in altre occasioni anche lui ha sempre detto abbiamo l'1% e quindi abbassa le aspettative. Però dall'altra poi dice io lavoro però solo su quell'1%. Se io non avessi quell'1% io non andrei proprio in un club. Altrimenti non sei un allenatore ambizioso, non prendi 12 milioni all'anno e non vai all'Inter. Ma non si parlava di vittoria, come ha detto prima Fabio, all'Inter ormai c'è nessuno. All'anno scorso Spalletti in questi tempi diceva no, siamo l'anti nessuno, abbiamo perso la prima partita. Fulio volevo dire da te, perché volevo chiederti, visto che vi conoscete da tanto con Michele, secondo te sotto sotto al di là delle espressioni un po' impolitichese, di cautela che ci stanno, sotto sotto ci spera Michele, fammi una radiografia del pensiero di Michele. Gioca molto meglio la formazione di semplici, in questo caso in ripartenza. Curtice che ha un particolare feeling con il gol, trova il lato più lontano dove Beriscia non prova manco a tuffarsi. Spall2-Lazio-1 sarebbero i primi tre punti per la formazione emiliana di questo campionato. È un brutto passo falso per la Lazio. Assolutamente, ne parliamo dopo, però intanto Fulio, dicevi non serve una radiografia di Michele? No, ma è giusto, è vero che ci sono i precedenti con Mancini e con Spalletti di un Natale passato in testa e poi dopo, almeno con Mancini non è finita bene, con Spalletti almeno avete conquistato il quarto posto. Però io volevo confutare a Fabio Verga quello che lui ha detto a proposito degli organici. Spesso, certo, la carestia non fa mai piacere, però ti aguzza l'ingegno. L'abbondanza, soprattutto nel caso di Sarri... Parma 1-Cagliari 4, Joao Pedro, debacle del Parma al Tardino. Nel caso di Sarri, però Fabio, abbiamo parlato anche di un stato di confusione, ma un stato di aspettamento. È vero che la Juve ha sette punti, ma è anche vero che la difesa non sembra più quella di una volta. È anche vero che la partita contro la Fiorentina non poteva essere vinta, come dice Sarri, ma al massimo pareggiata. Considerate le occasioni. E soprattutto è una Juventus che scricchiola. Scricchiolare non è essere in crisi. Però non eravamo più abituati, no Franco, a sentire... Vedere una Juve come quella ieri a Firenze, sicuramente... Fa notizia di per sé. Sì, fa notizia ed è particolare perché 15 giorni prima hai visto una Juve strapazzare il Napoli per 60 minuti. Però rientra nel computo del percorso di crescita, mi sembra evidente. Mi sembra evidente. Strapassare il Napoli, poi c'è stato, diciamo, anche uno strapazzamento dall'altra parte. Però non è un voler giustificare tutto. Però quando tu arrivi in questo periodo, sei all'inizio, hai fatto una preparazione pesante, preparazione transoceanica, no? Sarri era abituato a fare, giustamente come diceva Furio, la preparazione di Maro. Bisogna dare del tempo. Nel calcio i risultati arrivano, ma devi puntare su un allenatore, le sue idee e farle sviluppare. Furio dice che non c'è il tempo, è il peggior nemico di tutti. Anche Gianpaolo chiede tempo, dice che non arretro. No, no, ma Sani non ha questo tempo. Non arretri, il problema è che non devi arretrare tu, devi avanzare in Milan. Perché è quella, la classifica è l'unica cosa che fa testo. Per alimentare le possibilità di Napoli e Inter, continuo a dire che a differenza della Champions, dove alla fine poi devi avere i campioni, è vero che ci sono le sorprese, ma le sorprese magari per fare un bel percorso, poi per vincere, guarda caso, negli ultimi anni hanno vinto grandissimi club che hanno grandissimi campioni. In campionato invece contano anche altri aspetti, c'è l'essere più bravo e più costante, c'è questo martellamento di Conte, c'è l'Inter ha sempre avuto problemi, magari all'interno della stessa partita, soprattutto in fase della stagione. Beh, sulle montagne russe, no? Le montagne russe. Ecco, è chiaro. Allora, io qui mi aspetto che questo aspetto, scusate il gioco di parole, sia completamente... Annullato e stavolto da parte di Conte. Annullato, allora l'Inter non trova a giocare... Annullato il gol del Cagliari perché c'è stato un fallo di Joao Pedro prima del gol di Joao Pedro, quindi Parma 1-Cagliari 3. Continuano solo a cambiare ma anche annullare. Saranno 28 minuti. C'è l'Inter, Federico non dovrà giocare contro Cristiano Ronaldo e la Juventus tutte le domenze, due volte all'anno, le altre volte deve fare il suo percorso, due squadre. No, secondo te Conte questo lo tiene fisso, cioè riesce a evitarlo questo percorso. Secondo me sì, e noi diciamo come stanno le cose. No, diciamo come stanno le cose. Il campionato, tu lo puoi programmare perché hai 38 gare, no? La Champions è improgrammabile, io la definisco una competizione creativa. Però Michele, tu prima dicevi che la Champions è sempre preda dei grandi club. È vero, però l'anno scorso in finale è arrivato un Tottenham che non aveva fatto nemmeno mercato. In finale sì, ma poi perdono queste storie. Secondo me la verità sta nel mezzo, nel senso che tu devi avere una società che appronta un grande organico, dà una grande rosa a un allenatore ovviamente bravo e competente e poi se la gioca. Il campionato è sicuramente più umana, almeno la storia ad oggi ci dice questo, per un Antonio Conte che sa programmare, stimolare e riuscire a portare poi all'ACME i propri giocatori. Io credo che l'Inter quest'anno possa fare davvero un'annata importante. Non so se vincerà lo Scudetto, io mi auguro che le mie previsioni di Juventus sul primo gradino del podio possano venire confermate. Perché Conte dice spesso che l'Inter non deve fare bene, deve fare meglio degli altri, no? E questo è giusto. Sì, però quelle davanti fanno disegno. Però io in questi anni mi sono sempre meravigliato, dico perché la Juve vince il sesto consecutivo, il settimo consecutivo e vedo gente che ha più fame? Quest'anno almeno l'Inter deve avere più fame della Juventus, dopo otto Scudetti Vini. Sensi ce l'ha questa fame. Ma Sensi più che la fame, secondo me, ha veramente una visione di gioco da giocatore top. E questa è una cosa che nel centrocampo dell'Inter per gli ultimi anni manca. Vedo che ti brilano gli occhi. Sì, no, perché spesso abbiamo visto centrocampi muscolari. Finalmente uno che dà del tuo al pallone. E poi non sai, quando si dice il giocatore è il ruolo giusto, quelli bravi danno qualcosa in più se li metti un po' più avanti o un po' più dietro. Quelli meno bravi ti fanno affrontare. Voglio sentire furio su Sensi, che rammarico c'è? Totale, perché doveva essere il primo acquisto di questo Milan. E fra l'altro penso che fra gli alibi, anche non pochi, che ha in questo momento, alibi è una parola brutta diciamo. Tra le scusanti. Le scusanti che ha Gianpaolo e che i giocatori, i calciatori che lui aveva indicato, non sono praticamente stati acquistati, perché si era parlato di Pride, si era parlato di Correa, si era parlato di Sensi e già non è poco. E poi ne sono arrivati altri. Però a vedere questo Sensi allora ti resta chiaramente l'amaro in bocca. Beh, il Milan l'aveva in mano. Si era parlato, a un certo punto ho sentito parlare di una strategia che non so, l'Inter per far agevolare, agevolare chi? Ha agevolato l'Inter, il Sassuolo ha preso i suoi soldi, quelli che doveva prendere. Perché l'Inter ha fatto il prestito per l'operazione, 5 milioni ha dato Sala, il terzino, il diritto di riscatto. Quindi il Milan ha circa altri 20. Il Milan voleva arrivare a 15, 18. Anche se fosse costato alla fine 35, comunque già adesso è vero che qui... Però il calcio è fatto così, soprattutto la Serie A. È inutile che stiamo a fare poi i moralismi, ah ma si dice le plus valenze o queste cose. In questo momento Sensi è un giocatore come minimo da nazionale. E come ancora, ma non c'è nemmeno il minimo, è un titolare fisso dell'Inter. Certo. E può giocare a centro. In tre partite ha fatto cose straordinarie. Allora, io mi devo fermare però, rientro la pubblicità, facciamo il quadro finale su quello che sono state le sfide del pomeriggio, anche se ancora non sono tutte concluse. Ma dobbiamo parlare anche di Milan. Chiaramente, caro Furio, ti chiamerò pesantemente in causa, visto che già ci proiettiamo a quello che sarà il percorso del Milan. Ma prima faremo un velocissimo passo indietro. Andiamo a leggere insieme l'elenco degli infortunati in casa Juve, perché dobbiamo ancora gettare l'occhio verso la Champions e verso gli impegni appunto dei bianconeri, dopo quello che è successo con la Fiorentina. Ancora tantissimi temi da affrontare. Non vi muovete due minuti e siamo di nuovo con voi.